Vabbè a tutti ragazzi ed eccoci qua ritornati e finalmente siamo di nuovo su un campetto Ragazzi questo video sarà la follia perché oggi ci saranno Tonno, Joker, Ciccio e Corina Comunque signori oggi stiamo per fare un pezzo la sfida dei rigori impossibile Non ha senso questo video Perché allora questi possono sembrare guanti da portiere, infatti sono guanti da portiere Ma non ci servono Ah ok Perché ragazzi il portiere sarà completamente inutile perché oggi dovremmo usare questi Questi occhiali, sembrano strumenti di satana e effettivamente lo sono Sì è abbassata Praticamente sono dei prismi questi che vedete qui nelle lenti E rendono praticamente impossibile anche camminare dritto perché praticamente tendono a creare l'effetto di, non lo so, ubriachezza Ci volevo provare, fammi vedere una cosa È tutto al contrario, guarda se poi giriamo, guarda Esatto Uno va sotto sopra Guarda, quello sono io Guarda, o qualcuno si fa male realmente Sì, ma infatti nelle istruzioni c'è scritto non camminarci No, noi ci giochiamo proprio a pallone E noi oggi ci giocheremo a pallone Quando l'ho provato ho avuto senso di nausea per dieci minuti buoni Quindi vediamo cosa ne esce Senza portiere abbiamo cinque prove di tiro Per vedere se qualcuno di noi riesce a prendere la palla E sovrattutto a fare gol Lui ha detto, sei sicuro senza portiere? Ma vabbè, se lui tira storto, questi sono storti Storto più storto è dritto, lui tira dritto Quindi è il momento di mettersi in questi strumenti Certo Parte che... Dai, eh! Uuuuh! L'ho già messo al contrario L'ho già messo al contrario Ok Qua ci sei Quella è la porta Prova a fare gol Cioè prova a prenderla Stanta lonti a qui Ti andare dritto per dritto No, sei, no, così No, 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 devi tirare Devi tirare Devi prendere e tirare E go Sì, sì Spanta che... Dov'è il tra Dov'è? Io scherzavo ma lui intanto uno l'ha fatto Eh ma io ero al contrario Vai Porta secca Vai, vai, vai Oh, oh Volo La bomba è andata Regà ma è... Senti ma qua Chi c'ha i piedi storti funziona bene quindi A che vorresti dire? A me basta togliere gli occhiali che già non vedo niente È fatta la sfida Vai Tony, ce l'hai Oh Oh L'hai tirato fuori, no, mi spiace Infatti lui prima ce l'aveva in modo diverso ancora Guarda, guarda così come cacchio puoi tirare No, regà, è impossibile Oh mio Dio, mi è da sbrattare È il momento di Simone Vai, eh Eh sì, eh sì, proprio lì Proprio lì Oh mio Dio Non c'ha senso sta cosa Oh mio Dove è la telecamera? Aspetta La telecamera sta qua Stai in linea, stai in linea Stai in linea però vai Ecco qua Ma da solo che sta Non sta guardando? Non sta guardando? Non sta guardando? Fermo 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 Ecco Perché è fin troppo solido da fermo Due passi Eh Dipende che passi qua Vai di mo Ce l'hai No Che arriva in porta No, non c'è arriva Non c'è arriva Non arriva neanche la linea Oh, così Ok Netto Netto Netto, dritto Di colpo No Per poco Per pochissimo Vai, terzo tiro Checco Vai Allee Girati ancora No, facciamo qua Un po' più dietro Tu, secondo te ce l'hai qua Vieni Vai un passo Un passo e tira Oh, vedi La presa Gol Due Vai Doni Vai Doni Ce l'hai Ce l'hai, oh Tira Scola Oh, Dio Oh, ecco Questo la faccio sotto l'incrocio Vai No, no, c'è, c'è No, no, ci sta Ci sta, guarda Eccola Eccola, eh Guardala Il dischetto sta lì Eh, ve lo guarda Ma poi di là Ma cosa dici Sta qua Ma che cosa dici Sta là Oh, c'ho parto Adesso ci sta Eh, adesso Posso andare? Vai Vai Quanti passi? Eh, tre, quattro Quanti ne vuoi? Vai Tony No Ma che sei dato il caccio in faccia Ho sentito succedere E' il ginocchio Lo prendi Bravo Gol Segnato Sì Lo vedi Dove andare un po' più da Questi momenti Prova a guardare in basso Tu guardi così Ah, però è vero Se tu guardi in alto Può essere in basso Ma mi hanno messi stato E tira Oh, l'ha preso Dai, che c***o È gol? No Che se mette dritto l'occhiato È gol, è gol, è gol Bomba È con bomba Vai Sì Quanti passi c'è? Eh, vai Ce l'ho detto prima Vale No Bravissimo Ce l'hai preciso Dritto Non lo so Stiamo Abbraccia Ciccio Abbraccia Ciccio Vai Abbraccia Abbraccia Vai verso la voce Verso la voce Sì, sì Se ti levi dei colpi Fa schifo Sì, è coltrito Vale Vai 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 Eccola Ah Giusto Dritto Questo è l'ultimo Sì, sì C'è Dritto Vai Vai Non può falto Bravo Bravo Ha fatto il streak Ha fatto Ha fatto Dai, gioia di gole Va bene Dai Poi ti va come sinistra L'ha preso Vale E se stocca l'ultimo Che c***o c'è l'ultimo simon vado vai dall'altra parte quanti passi uno e mezzo più o meno due dai quanti da fatti simone sodin se segna e vinto o meglio dobbiamo segnare vai questa ma sodin almeno tre passi di fare tre passi 1 2 3 no l'ha lisciata di poco l'ha lisciata di pochissimo su tutti i canali e i video in cui sono usciti tutti spareggio considerate che checco i suoi due gol l'ha fatti con gli occhiali che non erano messi proprio così e così fidatevi è impossibile io non ho preso neanche mezzo fareggio a tre io che ciccio il primo che segna il gol vince quindi si continua in base ai risultati degli altri quindi se uno solo segna sarà l'unico vincito e io ho fatto zero quella è la botta grazie anzi quella è la botta che non l'hai presa sono tre passi 1 2 3 bravo sono fatto male pure sono davvero una botta bravo uno due tre no per poco guarda che dai vedi gli occhiali non ci crederai la botta dove sei almeno sul mio canale di vincere uno due tre no 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 migliore simone che ne ha presi ben zero quindi signori ringrazio questi intrepidi uomini che oggi sono sottoposti a questa tortura fatemi sapere se volete di nuovo vedere questi occhiali all'opera in qualcos'altro magari anche non per forza sul campo quindi per oggi ci possiamo fermare qua in descrizione trovate i link ai loro canali trovate gli altri video che abbiamo fatto sempre qui sul campetto quindi per oggi ci possiamo fermare qua come sempre lasciate un like lasciate un commento sonni vi saluta bella e che ci